La riunione oggi in municipio a Montesilvano per discutere sui criteri per la redistribuzione dei 10 milioni da parte dello Stato ai familiari delle vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano. Dopo l'incontro dello scorso 8 luglio a Roma, convocato al Consiglio dei Ministri, primo appuntamento preliminare stamane in vista di un'ulteriore riunione a Roma per metà settembre tra i funzionari del Ministero e la Commissione Ristretta dei Sindaci di Montesilvano, Loreto, Protino, Città Sant'Angelo, Pioraco, Comune Marchigiano dove risiedeva Emanuele Bonifazi tra le 29 vittime del crollo del resort quando verranno vagliati i criteri da inserire nel bando per la distribuzione del contributo di 10 milioni così come previsto dal Decreto-Legge 135 del 2018 convertito dalla Legge 12 dell'11 febbraio 2019. Si tratta di una procedura non insolita, visto che una simile iniziativa è stata adottata anche per le vittime della strage ferroviaria di Corato, avvenuta nella settembre del 2015. Quello che è sicuramente un elemento che è già stato valutato e che valuteremo oggi è quello di ridurre il minimo possibile i tempi in modo tale da dare risposte certe e le più brevi possibili a chi sicuramente non avrà, come posso dire, in qualche modo la possibilità di riavere in vita i loro familiari sicuramente non vedrà alleviato il loro dolore però avrà un supporto da un punto di vista economico che in questo periodo soprattutto per le spese legali che stanno affrontando insomma è un qualcosa di positivo. Quindi noi oggi tutti riuniti i sindaci faremo in modo di avere certezze volte a restringere i tempi e per dare a coloro che ne sono fruitori il giusto compenso in termini economico.